oh ok sto registrando benvenuti a una puntata di come non giocare qualcuno pronto? sente? si un po' basso forse comunque come non giocare qualcuno non è proprio così nel senso che so è mattina presto scusate mi sono svegliato molto presto cos'è? no è una questione di tutto io ci provo a giocare i champion poi vediamo non lo so come non giocarle perché di solito non è che mi risca molto 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 bene o o in my case ring 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 okey Un'attituto è simile a una fortissima che serve molto di meno. Explode facilmente. Un'attituto. Quelli stiamo prendendo anche Pepe. Contro abbiamo della gente che fa veramente male. Aiuto! Voglio piangere. Ma non posso. Co... Per favore mi ha spragato la coppia di cura. Per favore. Ah, non busta molto mostruosa. Però se io mi faccio aprire i doppi sono i punti. Ah, no cazzo. E non mi ha spiegato da un'attitivo. Ma io non ho vitto il cazzo. E non mi ha spiegato. Oh, non mi ha spiegato. E non mi ha spiegato. Quindi, cazzo, per favore, non mi ha spiegato. Cazzo, per favore. No, l'ultimo premio è un tactico che deve essere punteato. Bene, sono raga con la quadra, nel parmento. Ma adesso si inizia a fartare. No, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. No, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. No, 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 l'ultimo, l'ultimo. L'ultimo, l'ultimo. No, l'ultimo. No, l'ultimo, l'ultimo. No, l'ultimo, l'ultimo. No, l'ultimo, l'ultimo. No, l'ultimo, l'ultimo. 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 Sera che contro C'è un schmato, c'è un schmato Rado tutto quello Ma che prezi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti